partiamo da luglio che è un percorso che unirà i 3 di primo ex sono 100 perché il mio uscirà a fine marzo il primo concorso l'anno scorso uscirà a fine marzo il suo uscirà a fine marzo e il suo a giugno quindi è proprio un percorso che abbiamo iniziato abbiamo deciso di proseguire insieme proprio per portare, per vedere che la diversità non divide ma la diversità unisce e quindi il nostro discorso è quello portare la diversità di espressione, la diversità artistica sempre nella scrittura per unire e per risvegliare proprio il cuore e la mente delle persone questo è ovviamente l'intento che noi abbiamo ed è per questo che ci divertiamo al giro orcolare di poi l'altra l'Italia grazie 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 grazie